Uno l'implica l'altro, perché se non c'è lavoro non si produce ricchezza, se non si produce ricchezza non ci sono pensionati, non ci sono giovani che possono contribuire al benessere della società e delle proprie famiglie, quindi non ci può essere un welfare perché non è supportato da nessun tipo di risorsa, quindi lavoro e welfare sono un binomio indissolubile. Sarebbe necessario veramente integrare tutte le risorse possibili in un unico bacino, per evitare proprio questo aspetto che causa semplicemente uno spreco inutile di risorse, proprio quello dei doppioni ce ne sono ancora e sarebbero da ottimizzare con delle fonti mirate che abbiano un solo scopo, da qualsiasi parte possano fruire. Una spinta che è di notevole importanza perché noi siamo sempre presenti laddove si tratti di discutere non solo le priorità degli anziani ma soprattutto le priorità della società in genere, delle nostre comunità, quindi io ritengo che la nostra presenza sia, non dico fondamentale, ma sicuramente un valore aggiunto nella nostra società.